Cobra Kai, stagione 5, come un Mawashigeri a ciel sereno è arrivata in anticipo. Wabarabadabdabe, bentornati su Nomomamazzo, bentornati nella rubrica Serie TV. Con il mio sommo piacere sono di nuovo a parlare di Cobra Kai, una serie che si divora, è fantastica, ogni stagione è un binge-watching continuo. Solitamente l'appuntamento con Cobra Kai era ogni primo dell'anno, o 31 dicembre, non ricordo onestamente. Questo sanciva un po' anche l'inizio del nuovo anno, era diventata ormai una tradizione vedere Cobra Kai così presto o tardi a seconda dei punti di vista. E quando ho saputo la notizia che questa quinta stagione sarebbe arrivata a settembre ho subito pensato vuoi vedere che Netflix ha iniziato, come ha fatto in altre serie tipo Better Call Saul, a diluire gli episodi. Infatti facendo un rapido calcolo sugli episodi che ci sono solitamente in una stagione di Cobra Kai e su un'uscita ipotetica settimanale, partendo da settembre si poteva arrivare tranquillamente a fine anno. E invece no, con mia sorpresa mi sono visto tutta la serie, tutta insieme, droppata a settembre. Forse perché è una serie che parla anche, non lo so, di adolescenti, di scuole. Quindi forse hanno capito che il vero anno non inizia al primo dell'anno ma inizia a settembre. Magari hanno fatto questo tipo di scelta stilistica. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettermi il mi piace o non mi piace a questo video, anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che conoscono il karate e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questa stagione, le parti più belle, le parti più brutte che avete visto in questa stagione, se l'avete già vista e se la preferite ad altre stagioni o se ne avete abbastanza. Insomma, scrivetemi tutto quello che pensate di Cobra Kai, scrivetemi anche il vostro personaggio preferito. Per chi mi segue sa che, non ricordo se l'ho detto nella recensione o in un post su Instagram, eccetera, eccetera, ma per chi mi segue sa che io quando vidi la quarta stagione, ero pienamente soddisfatto, ma iniziavo a sentire un filino di ripetitività e mi auguravo che la quinta stagione fosse l'ultima e che chiudesse il cerchio di tutta la serie. Devo dire che invece ora che la quinta stagione l'ho vista, ne voglio di più, come disse Dopinder, voglio vederne ancora. Questo perché sono riusciti a sapersi discostare un po' dai temi delle prime... scusate, delle prime quattro stagioni, o comunque hanno iniziato a spostare il focus su qualcosa che il focus non ce l'aveva nelle altre stagioni, ovvero si sono rispostati di nuovo sui personaggi adulti. In questa stagione i protagonisti più teen li vediamo un pochino meno, perché forse gli adolescenti, meglio degli adulti, sono riusciti a risolvere i loro conflitti interni, o forse perché comunque ci hanno mostrato che i loro conflitti interni sono sempre gli stessi triti e ritriti e quindi ce li hanno semplicemente accennati, però ci siamo un attimino concentrati sui personaggi adulti che comunque non ripetono gli stessi schemi, non ripetono gli stessi errori. Devo dire che mi ha molto infastidito nella quarta stagione vedere Johnny Lawrence e Daniel LaRusso che ancora litigavano, ancora si separavano, mentre qua finalmente vediamo un Johnny Lawrence e un Daniel LaRusso che hanno una propria vita e che si incontrano solamente quando l'altro ha bisogno di aiuto per collaborare insieme. È stata una cosa fantastica che non si era mai vista. Per quanto riguarda Johnny Lawrence, finalmente ha una crescita personale, nonostante lo mantengano un po' il bullo stupidotto, un po' il Barney Stinson del karate, riesce finalmente ad avere una crescita, ad accettarsi come adulto, ad accettarsi come padre dato che sta arrivando un nuovo bambino ed è un po' anche, diciamo, la chiusa del suo personaggio così come lui stesso ha accettato nel discorso fatto con Chosen, cioè lui ha passato tutta la vita a pentirsi di un momento cristallizzato nel passato e adesso finalmente che ha iniziato a guardare non il futuro ma il presente riesce finalmente a goderselo e a vivere ed è un pochino una lezione che ha dato anche a Chosen che spero, nella prossima stagione, veder fare la stessa cosa e smetterla di condannarsi per la caduta d'onore che ha avuto da giovane. Chosen, best personaggio di questa stagione, anche perché riesce con il suo carattere molto serio a creare, molto serio e molto outsider dal momento che viene da un'altra cultura, viene da Okinawa, non è abituato a molte usanze, sembra quasi vivere nel passato, sembra quasi vivere nel Giappone feudale per certi versi, un po' anche stereotipando l'immagine che abbiamo noi dell'artista marziale del sollevante e con questa sua seriosità riesce a creare non volutamente delle situazioni comiche come il fatto di portarsi dei sai in discoteca, cosa che però sembrava buttata lì a caso per far la battuta ma poi in realtà è servita tantissimo dal punto di vista narrativo per la battaglia finale. Sono anche questi piccoli dettagli che io adoro in una serie come Cobra Kai. Tra i personaggi di giovani io, lo sapete, ho sempre amato il Falco ma ha avuto tutto il suo arco narrativo di evoluzione fino alla quarta stagione. Qua è una persona stabile, una persona realizzata, tant'è che diffonde la sua saggezza acquisita prima di uno scontro con il bulletto asiatico del Cobra Kai e qua sancisce finalmente la sua maturazione. Una volta che lui è finalmente diventato di nuovo un Eli completo tira fuori il Falco, e non è un'allusione sessuale, tira fuori la parte aggressiva di se stesso solo quando c'è bisogno appunto di vincere un incontro. Questa cosa mi è piaciuta molto. Lui finalmente è Eli, non si sente più in soggezione, non ha più vergogna di essere Eli, ma riesce a tirar fuori il Falco, non per essere aggressivo nella vita, perché ha capito che si cresce e non bisogna essere sempre il bullo della situazione, ma solo quando bisogna appunto combattere per qualcosa di giusto. Tant'è che gli vediamo lentamente rispuntare la cresta lungo tutta la serie, ma se ci fate caso è una cresta molto più bassa, come si suol dire ha abbassato la cresta, anche se è un termine molto italiano, però vediamo appunto come è un Falco diverso, meno aggressivo, ma molto più combattivo. Mi è venuto in mente un pochino, io che sono un grande amante di Buffy l'ammazza vampiri, lo spike quando riguadagna l'anima e inizialmente è un pochino soft e tira fuori di nuovo il suo lato vampiresco, il suo lato aggressivo, simboleggiato dallo spolverino di pelle, quando c'è bisogno di combattere. Più o meno è il percorso che ho visto in Eli Moskovitz, il Falco. Vediamo finalmente anche il fratellino di Sam, Anthony Larusso, che riesce a tirar fuori qualche dote dal suo cilindro, ovvero l'astuzia, dal momento che non ha ancora doti marziali. È più debole di Dimitri, l'amico di Falco, perché è sempre stato svogliato a combattere. Forse ora che ha visto cosa può dare un gruppo congiunto di combattenti e forse ora che ha visto suo padre difendere la propria famiglia in combattimento contro Terry Silver, potrebbe allenarsi davvero. Chissà, potrebbe magari diventare il prossimo campione del torneo che ci sarà in futuro. E sarebbe molto bello, perché sarebbe bello vederlo finalmente scontrarsi alla pari con Kenny, anche se la cosa migliore per questi due personaggi sarebbe una chiusa pacifica dal momento che è stato Anthony Larusso a iniziare il bullismo verso Kenny, poi Kenny è diventato a sua volta il bullo e quindi in realtà non dovrebbe batterlo Anthony Larusso perché è stato lui a cominciare, dovrebbe più che altro chiudersi il tutto con una lezione da parte di entrambi e magari un'amicizia da parte di entrambi, di amicizia che finalmente c'è stata tra il figlio di Johnny Lawrence e Robby e Miguel, il pupillo di Johnny Lawrence. Finalmente abbiamo visto questo capitolo chiuso, lo abbiamo visto chiuso anche con il Falco e Robby, insomma tutte le persone che erano, che odiavano Robby, si sono riappacificate per far fronte comune contro Terry Silver. Come Demetri stesso ha detto in pochissime parole, siete tutti degli ex stronzi, ora c'è altro a cui pensare. Anche se la componente adulta della serie prevale, tra la componente teen, fanno sempre da protagonisti Samantha Larusso, in maniera molto minore la Nichols, che ha un suo percorso, una sua lotta interiore, vediamo anche il suo rapporto con John Kreese in carcere e il suo distaccamento da John Kreese, che finalmente la lascia libera, diciamo, di scegliere, non vuole più usarla come pedina per i suoi piani, tant'è che vuole fare da solo alla fine della serie John Kreese. E vediamo appunto la Nichols, che anche lei ha un percorso, una chiusa, che la fa in un certo senso, riappacificare un pochino con Samantha Larusso, che per mia somma gioia, dato che adoro il personaggio e l'attrice, è la protagonista assoluta della componente teen. La vediamo, in un certo senso, comandare come una vera condottiera tutta la parte del Miyagi-Do. Mi ha molto entusiasmato che alla fine l'Eagle Fang è un pochino passato in secondo piano, dal momento che è un nome orrendo ed è un dojo appena nato. È stato molto bello vedere che è stato Johnny Lawrence stesso a dichiarare il nome Miyagi-Do per iscriversi al torneo internazionale. Un momento che avrei lasciato così, invece lo hanno un po' smorzato, mostrando che anche Larusso voleva il nome di Eagle Fang, eccetera, eccetera. Io proprio l'avrei chiusa con siamo il Miyagi-Do, mi sarebbe piaciuto vedere tutti i ragazzi con il kimono bianco, mi sarebbe piaciuto vedere solo Johnny Lawrence con il kimono rosso, non tanto per Eagle Fang, di cui non mi frega un cazzo, ma perché ricordava molto il giubbino rosso che aveva nel primo Karate Kid. Però, ecco, mi sarebbe piaciuto che tutti gli allievi avessero il kimono bianco. Ma questa è una mia parentesi estetica. Dal punto di vista degli adulti, Terry Silver è un figlio di puttana perfetto per questa serie, è un nemico spettacolare che non avevamo mai visto dal momento che non combatte solamente sul ring in modo crudele, ma combatte nei modi più biechi possibili anche per arrivare alla vittoria da via traverse, come la corruzione degli arbitri, come l'utilizzo del suo patrimonio per comprare tutto quello, tutto il terreno, come se fosse un antico re conquistatore, compra tutti gli altri dojo, ne vuole aprire altri, vuole espandere la sua egemonia mondiale in modo internazionale e questa è forse la cosa più pericolosa. Mi ha stupito molto, non mi ero accorto che la serie stava già finendo prima di questo famoso torneo. Onestamente ero convinto di vedere almeno il torneo, invece come hanno già fatto, hanno già usato questo escamotage in altre due stagioni, hanno spezzato, diciamo, un unico arco narrativo verso un torneo in due stagioni. Quindi in questa stagione abbiamo visto semplicemente l'adesione, l'iscrizione a questo torneo internazionale. Nella prossima stagione, che a questo punto presumo sarà l'ultima, vedremo appunto la disputa di questo torneo internazionale. Ma cosa vedremo in questo torneo internazionale dal momento che il Cobra Kai di Terry Silver è stato smantellato, dal momento che Terry Silver è stato scoperto, il vaso di Pandora è stato scoperchiato, grazie anche a Pastinacca, che finalmente anche lui ha una risoluzione del suo arco narrativo. Finalmente lo vediamo diventare adulto in un certo senso, pentirsi dalle sue azioni e rendersi conto di quello che è e di quello che può fare. Io credo semplicemente che nella prossima stagione il Cobra Kai ormai è iscritto al torneo internazionale e qualcuno se ne farà carico. Presumibilmente John Kreese, è ovvio. Spero non sia Johnny Lawrence, anche se sarebbe una chiusa del cerchio, un ritorno alle origini. Ma non lo so, non la vedo bene come chiusa, a meno che appunto durante tutta la stagione ci sia questo torneo internazionale con John Kreese al comando e nel finale magari John Kreese muoia per qualche ragione, anche naturale, magari si senta male e dia in eredità il Cobra Kai a Johnny Lawrence che dopo aver imparato da queste stagioni la lezione su cosa è giusto, cosa è sbagliato, porterà un nuovo come si dice, un nuovo smalto, uno smalto più pulito, uno smalto meno stronzo al Cobra Kai e il Cobra Kai finalmente avrà, il Cobra Kai come istituzione avrà finalmente anche lui una sua redenzione, ecco. Quindi io spero che sarà questo il finale di tutta la serie. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, vi ho già detto, scrivetemi quello che vi ho detto all'inizio, il vostro personaggio preferito, cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno, qual è la vostra crush, perché ragazzi non si possono non avere crush per questi personaggi. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e con l'inchino e con l'imbuto vi dico, vi saluto, arrivederci. e con l'imbuto e con l'imbuto e con l'imbuto